cari amici vicini lontani del vivitalia tv bentornati alla nuova puntata del bianco e nero la trasmissione che serve per fare il punto dei fatti accaduti durante la settimana e per vedere quelli che potranno accadere durante la prossima a tra poco cari amici vicini lontani benvenuti da parte di stefano vela la nuova puntata del bianco e nero una puntata che fa il punto sulle situazioni politiche economiche e anche di attualità soprattutto per quello del riguarda il conflitto bellico che la russia ha acceso in ucraina con lo imparne discutiamo con il nostro esperto in comunicazione politica a gianfranco merlin bentornato merlina bianco e nero grazie direttore allora secondo lei cosa sono gli aspetti più importanti di questa settimana soprattutto sull'atto politico economico visto anche che siamo reduci da due giorni del consiglio europeo dove si è discusso a bruxelles assieme a tutti gli stati europei ma anche la presenza straordinaria del presidente degli stati uniti joe biden degli assetti economici geopolitici e anche quello delle rifornimenti del dell'energia che sta diventando uno dei fenomeni strategici dell'economia europea perché fino adesso siamo legati a triplo filo con le forniture di energia gas e petrolio dalla russia che si vorrebbe appunto tagliare per rendere ancora più difficile la situazione alla russia dopo l'invasione dell'ucraina direttore dalla scorsa settimana le cose si sono aggravate cioè noi abbiamo un governo che sembra non si renda conto che noi siamo già svantaggiati e ci mettiamo proprio veramente sempre di più nei guai noi siamo il paese tra virgolette che ha più bisogno in assoluto eh della russia e di putin e eh ci siamo presi eh l'onere di di inviare armi e questo secondo me eh so che ciò tante persone che sono convinte che sia un bene essersi schierato per la povera ucrania fa pena anche a me tutta la situazione ma da un punto di vista politico ed economico è un disastro questo forse forse l'europa faceva meglio essere un pochettino più neutrale un po più superporta anche considerando le sue necessità economiche e soprattutto cercando da una parte diciamo di neutralità di essere maggiormente proattiva per fare cessare il conflitto senza d'essere diventarlo di fatto un partigiano a confronti dell'ucraina fornendo miliardi e miliardi di armamenti sì noi infatti siamo eh per per Putin e per la Russia siamo un paese nel mirino infatti noi saremo di quelli che dovranno pagare eh il petrolio e il gas in rubli perché questa mossa qua per noi è un po' per tutta anche l'economia internazionale è stata eh una era e non era prevista e ha rimesso in gioco praticamente tutto il sistema internazionale delle monete perché lei sa che fino a poco tempo fa eh fino a ieri si poteva pagare la moneta riconosciuta era soltanto il dollaro o anche o anche l'euro a seconda dei contratti sottoscritti tanto tanto per dire oggi la Russia chiede all'India di pagare il petrolio in euro sì però non è uno per per Putin non è uno stato tra virgolette canaglia uno stato nel mirino noi siamo uno stato nel mirino noi dovremmo pagare in rubli cosa succede che lei sa che eh ancora i vari presidenti americani appena c'era eh qualche nazione qualcuno che alzava il dittino e diceva ma perché non usiamo altri tipi di moneta e perché dobbiamo usare il dollaro eh voglio fare esempio ad esempio Saddam che voleva pagare in euro voleva farsi pagare in euro oppure Gheddafi che voleva farsi pagare con una moneta americana cos'è successo non volevano sottostare al signoraggio internazionale del dollaro e qualche settimana dopo qualche mese dopo sono partiti i bombardieri americani e guarda caso sia Saddam che Gheddafi ha fatto una brutta fine pertanto eh per questo è uno smacco per per l'America perché volevano tenere il dollaro come moneta internazionale al centro del mondo ma in questo momento gli equilibri si stanno veramente spostando e penso che faremo un passo questa sarà una data storica per un punto per per la politica internazionale però intanto Biden porta a casa la vendita di almeno 15 miliardi di gas liquido all'Europa e a vantaggio del a un prezzo a un prezzo e noi lo paghiamo prezzo molto più elevato perché bisogna portarlo qua da quasi 5.000 km di distanza ma poi sappiamo tutti che il gas produrre gas da fracking come lo fanno in in America ha degli impatti ambientali estremamente elevati sia per la perdita di gas nelle operazioni di estrazione sia dall'inquinamento di acqua di di risulta ma soprattutto anche produrre gas liquido costa enormemente dal punto di vista energetico e poi ci sono anche i costi di trasporto delle navi e noti bene si noti bene che l'Europa non è ancora attrezzatissima per quanto riguarda le strutture della di di ricezione del gas liquido perché c'è la Spagna c'è la Francia che ha una struttura abbastanza adeguata la Germania un po' di meno perché fino adesso si è andata avanti con i metanodotti che arrivavano dalla Russia l'Italia è come al solito il vaso di coccio in mezzo al vaso di ferro perché la politica del ne ne del non possiamo non si può non è il mio giardino vi dicendo ha bloccato almeno tre la costruzione di almeno tre rigassificatori che potevano portare anche investimenti molto elevati da parte di aziende estere pensiamo semplicemente agli investimenti che dovevano fare un gruppo inglese in in Puglia che il buon Emiliano del PD ha detto niente non sa da fa e quindi sono sono volati via 600 milioni di investimenti per aiutare a diversificare e ad avere meno problemi dal punto di ci aggiungerei anche cinque stelle in questo modo sono tutti uguali cinque stelle un po di scheggine varie dicendo hanno sempre detto no dagli inceneritori per poter trasformare una da problema l'immondizia in una risorsa quindi produrre energia termica e elettrica a tutto quello che c'è il discorso dei gasificatori che mancano si potevano farle calcoliamo che adesso corrono vanno a correre di gran carriera per cercare di acquistare sul mercato due o tre navi rigassificatrici bisognerà vedere se riusciranno a trovarle ma se anche le trovano saranno sicuramente a caro prezzo molto più caro di quello che avrebbero potuto pagare se semplicemente la politica avesse programmato con un po di largo anticipo quelle che potevano essere le tendenze che bene o male da tanti punti di vista e da tanti studi si venivano già anticipati. Dottore allora diciamo anche un'altra cosa ci aggiungiamo e dopo magari chiudiamo questo argomento qua c'è un'altra cosa non so se lei se ne è accorta adesso noi avevamo questa bolla del green tutti si riempivano la bocca bisognava fare e produrre senza alcun inquinamento bisognava avere tutte queste nuove tecnologie adesso in questa emergenza a mio parere questa bolla questo green questa filosofia del green andrà non dico andrà esattamente al contrario però non ci sarà più questa tendenza perlomeno per i prossimi dieci o vent'anni si e sarà molto più concreti metteremo i piedi per terra faremo le centrali nucleari molto probabilmente di quarta generazione dovremo accettare tutto quello che prima ci faceva storcere il naso. Merlin pensiamo semplicemente che in questo periodo sono state riattivate il babau dell'energia le centrali a carbone e la stessa Germania che voleva chiudere le centrali a carbone sta investendo a tutta birra per fare nuovi impianti e addirittura sta rimettendo in pista quelle quattro centrali nucleari che ancora gli rimanevano che la Frau Merkel voleva chiudere e che adesso il governo guidato dai socialdemocratici con dentro persino i verdi nella compagina di governo tedesca saranno costretti a mantenere in funzione e a benedire il fatto che siano ancora esistenti e attive perché altrimenti senza di quelle la Germania sarebbe costretta a importare ancora più energia di quanto fa oggi dalla Francia che ha la gestione nucleare a bruciare ancora più carbone che è quella che fondamentalmente dà ancora più problemi e soprattutto la Germania è forse in condizioni ancora peggiori di quanto riguarda la situazione italiana per via della maggiore dipendenza dal gas russo. Anche lì Merkel nei suoi 15 anni di governo ha un po' ecceduto nel suo legame verso la Russia, complice anche la sua origine da esponente politica della Germania comunista, vicina alle posizioni russe, tant'è vero che lei è uno dei pochi politici a conoscere bene il russo e parlare in russo. Io infatti si ricorda che avevo proposto che la Merkel poteva essere un'ottima negoziatrice. Sì certo ma soprattutto la Merkel... Io l'avrei proposta assieme a fare una diciamo una troica di mediatori e andare là altro che spedire armi, bisognava obbligare... Attenzione a usare la parola troica perché in Europa la troica suona molto male e sa quasi... Eh no ma io la uso poco... Se è quello il successo in Grecia... No no, è voluto eh, non è un... Lo scenario, la tragedia economica... La troica vuol dire gente che abbia le palle, che abbia potere, che abbia anche credibilità nei confronti di tutti... Tornando alla questione ambientale è che lo stesso piano che l'Unione Europea e soprattutto l'attuale presidente Ursula von der Weyler che anche lei era la pupilla della Merkel, però era una pupilla con poca attributo a livello del governo tedesco quando faceva il ministro della difesa e infatti lei da ministro della difesa ha contribuito a scassare l'esercito tedesco tant'è vero che oggi gli elmetti tedeschi sono veramente delle caricature anche secondo per i vari generali dell'esercito tedesco ebbene, l'idea di dover andare ad azzerare l'impatto ambientale dell'Unione Europea entro il 2035 con un obiettivo... No, è andata, è andata... Quello dell'8% che è già di per sé stesso un quantitativo così basso che ci sia o non ci sia anche oggi o domani non fa nessuna differenza perché dell'8% manco ci si accorge a livello globale però comporta così tanti problemi dal punto di vista sociale, economico e industriale che è semplicemente un'auto da fe... Vittore, è saltato tutto sto piano qua, è saltato da solo... Viceversa, ci sarebbe stato opportuno aspettarsi dai politici europei una maggiore presa di posizione ancora da illo tempore per il discorso fondamentale di una maggiore autoproduzione di quelli che potevano essere gli aspetti strategici, pensiamo semplicemente a pannelli fotovoltaici il 95% di importazione della Cina, il problema del microchip che al giorno d'oggi sta vincolando grandissimamente tutta l'industria manifatturiera europea dall'automotiva all'elettronica e quant'altro perché vengono prodotti in gran parte... Direttore, era il globalismo, è saltato il globalismo, bisogna dire queste cose qua e bisogna rivedere, diventare un po' più autonomi, forse potrebbe essere anche una cosa positiva per l'Europa e bisogna farlo non solamente sulle tecnologie e sull'energia ma anche su un aspetto estremamente banale l'alimentare perché pensiamo semplicemente che la stragrande maggioranza, una buon 30% di prodotti alimentari che noi consumiamo ogni giorno sulla tavola vengono da importazioni estere con punte anche superiori per alcuni aspetti come il mais, la soia e vi dicendo ma pensiamo semplicemente a una cosa banale di comune, utilizzano il grano turco che serve per fare le farine, serve per fare la pasta, il pane e quant'altro ebbene, la produzione italiana ed europea non è autosufficiente ed è legata a doppio filo con il discorso dell'Ucraina e della Russia adesso ci manca il mangime e saremo costretti ad uccidere anzi c'è già una mattanza, è già in corso in queste settimane non è ancora una mattanza perché per fortuna stanno stappando la situazione riducendo le relazioni alimentari, però riducendo le relazioni alimentari ma sono costretti, se uno ha mille capi li portano a 900 devono diminuire ma c'è anche il problema grosso che oltre alla guerra in Ucraina e tra la Russia e l'Ucraina che erano i granai dell'Europa di fatto c'è anche il problema della siccità, sono tre mesi che non piove l'agricoltore non può andare a fare la semina di quelle che dovrebbero essere le culture di stagione perché se va a seminare i terreni sono troppo secchi troppo asciutti e il seme non germina e quindi soldi e tempo buttato via cosa succede? Stanno ritardando l'arrivo sulle produzioni di tutte le culture che dovrebbero dovuto esserci e ci sono tanti paesi che hanno il serio rischio tra cui anche parte dell'Italia di andare verso una carestia, una carenza di genere di prima necessità e questo è veramente preoccupante così come, scusi l'ultima digressione sempre in termini di energie ci sta avviando una forte carenza di niente po' di meno che gasolio perché il 20% del gasolio già pronto per essere consumato veniva importato dalla Russia e un altro 20% di gasolio intermedio, il cosiddetto gasolio sottovuoto che doveva essere ancora sottoposto a processi di desolforizzazione mi dicendo e arrivava sempre dalla Russia e questo sta incominciando a mancare e sui mercati della Germania, Austria, Ungheria e anche Francia le vendite all'ingrosso ai grandi consumatori di gasolio stanno incominciando ad essere contingentate perché non ce n'è abbastanza così come sempre nel campo della mobilità c'è il problema dell'AD Blue l'additivo per i motori a diesel di ultima generazione senza i quali non funzionano anche qua essendo prodotto da urea e quindi da prodotti metaniferi costa così tanto che non è più conveniente produrlo non si riesce a trovare ulteriori fornitori e c'è un blocco di quello che è i mezzi più ecologici e più sospinti ultima cosa che poi lascio, cambiamo argomento se la Germania ha un raffreddore l'Italia deve prepararsi a avere la febbre e l'indice IFO che è stato appena diffuso riguardante i risultati di febbraio dicono che c'è stato un crollo verticale da 98,5 a 90,8 e soprattutto l'indice della fiducia nelle aspettative per i prossimi mesi che è passato da 98,4 a ben 85,1 cosa che hanno fatto dire al presidente dell'IFO Clemens Foss che l'economia, cito testualmente, che il sentimento dell'economia tedesca è crollato il che ti dimostra un po' che bisogna cominciare a preoccuparsi seriamente di quello che sarà l'immediato futuro dell'economia europea e soprattutto di quella italiana Ecco, io direi una cosa, a questo punto il quadro è, da qualsiasi parte, da qualsiasi angolatura si guarda è negativo, ma non negativo, tendente al negativo è proprio disastroso Lo è già hic et nunc, qui e ora, non domani Esatto, è quello il problema io adesso vorrei un attimino portare un po' a un'economia un po' più spiccia diciamo se c'è qualche signora Maria e ci sono persone che ci guardano dico, vabbè, ma io cosa posso fare? Cosa succederà? Io provo a buttar lì delle ipotesi e io non dico si sa di chi può ma diciamo che ognuno nella nostra situazione deve trovare delle soluzioni in prospettiva di quello che certamente succederà non che potrebbe succedere certamente ci sarà una grave crisi economica la più grave dal dopoguerra pertanto ognuno nella propria situazione deve trovare delle soluzioni ad esempio, nel discorso alimentare qua si prevede addirittura su certi prodotti vedremo il contingentamento, le tessere cioè io non so che tipo potrebbe essere la farina potrebbe essere lo zucchero o quelle cose lì uno va in... Probabilmente rilanceranno il famoso cashback di Stato sulla farina o sul pane Comunque appunto ci sarà questo tipo di problematica e difficoltà ad approvvigionarsi di beni alimentari e questa è una e lì io non dico di fare scorte o cosa però insomma bisogna anche metterlo non rimanere poi a bocca aperta oddio cosa sta succedendo questo molto probabilmente al 90% succederà anche questo Merlina, stiamo andando verso un contingentamento anche di tanti prodotti sia energetici sia anche alimentari Sì, diciamo che durante la guerra io ho avuto mio padre che mi raccontava delle cose cioè i beni non erano disponibili adesso noi arriviamo addirittura fino adesso abbiamo avuto un eccesso di sovra produzione si chiama perciò ognuno ti offriva dei prodotti e tu prendevi il prodotto quello a meno prezzo o quello che ti piaceva di più per qualità o per prezzo adesso ci sarà un'offerta cioè dice tu ho dieci di questi qua li vuoi a questo prezzo qua te li posso dare però solo dieci e poi si creerà molto probabilmente di questo non ne sono certo però è prevedibile che se c'è scarsità di prodotto ci sarà anche a lato, a fianco un mercato nero cioè vuol dire che se tu vuoi dieci di questi prodotti qua io te li posso fare di nascosto visto che nessuno li ha li ho solo io la merce è rara te la do però al doppio del prezzo che sarebbe di mercato se li vuoi te li porto è quello che sta succedendo con l'olio di semi ecco quello che comincia già io questo non lo sapevo so che va a ruba però adesso inizierà con l'olio di semi potrebbe essere con altri prodotti con le benzine, con il gasolio con altri prodotti ancora più necessari e indispensabili perciò se tu vuoi che lo paghi il doppio di nascosto, in nero e di notte te lo porteranno guardi mi creda mi sembra impossibile anche a me dire queste cose qua ma c'è logica in quello che sto dicendo il premier Draghi uno dei suoi ultimi interventi al Parlamento ha detto che bisognerà prepararsi a un'economia di guerra e per un'economia di guerra infatti non sto dicendo cose e dopo c'è la famosa stacplazione che si ricorda che ne parlavo ancora l'anno scorso e ci siamo finiti dentro ecco che sembrava anzi ho spiegato il termine stacplazione perché in pochi lo sapevano e io dalle mie reminescenze che studiavo economia è uno dei primi termini che si imparano a livello teorico e che è una delle cose più disastrose che ci siano in economia infatti la crisi degli anni 20 era iniziata proprio con una grossa stacplazione cioè le imprese non riuscivano più a vendere i propri prodotti rimanevano in magazzini e i prezzi continuavano a salire ma nonostante continuassero a salire nessuno li acquistava cosa diversa negli anni 70 che c'è stata una grossa inflazione ma positiva perché ti dicevano vieni questa macchina costa 20 milioni si parlava di milioni allora 20 milioni se mi vieni domani mattina e firmi te la lascio a 20 milioni altrimenti c'è uno scatto del listino del 10-20% perciò se vieni dopo domani allora tu correvi ad acquistare perciò l'economia si muoveva in quel senso qua la stacplazione non si muove più cioè io la macchina non te la compro più anche non ho i soldi e non la compro anche se a qualsiasi prezzo anche se me lo abbassi ma non possono abbassarlo ecco anche perché se uno comprasse una macchina al giorno di sarebbe impossibilità di utilizzarla per via del costo dei carburanti e da questo punto di vista sarebbe opportuno che per combattere la stagaflazione ci fosse non tanto la politica dei bonus pensiamo semplicemente ai 12 miliardi investiti per abbattere il costo delle bollette energetiche o i 4 miliardi per fare incentivi all'economia delle imprese contro i 16 che la Germania ha già investito è il fatto che le due economie manufatturiere migliori d'Europa Germania e Italia una abbia investito 16 miliardi e l'altra abbia investito 4 miliardi la dice lunga anche su come è l'attenzione ma però per combattere veramente questi fenomeni stagflattivi bisognerebbe fare non tanto bonus ma ridurre grandemente il peso del fisco e il peso di tutti quelli che sono le accise sui beni energetici sui beni di largo consumo perché in questa maniera si rendono più economici si rendono più efficienza e soprattutto si evitano di succedere quei decreti come quello del decreto ucraina sul sconto dei 30 centesimi al litro del benzina e del gasolio che è stato un boomerang per l'autotrasporto perché il governo ha fatto un decreto nottetempo come al solito fatto con i piedi con una serie di rimandi che adesso sono già alla terza correzione sulla gazzetta ufficiale e la cosa è veramente fantasmagorica allora tenga presente anche che avremo più di 500.000 aziende che chiuderanno l'anno scorso erano 300.000 quest'anno 500.000 piccole e medie aziende che chiuderanno perciò lo Stato sarà sempre più famelico di tasse e di denaro perciò non è che possa calare più di tanto perciò la situazione io la trovo molto grave l'unica cosa e speriamo che sia veri che questa guerra finisca io ne sono convinto che prima o poi quando avrà ottenuto le repubbliche del Donbass e alcuni porti dovrebbe fermarsi speriamo e lì ci potrebbe essere anche una situazione che si evolve in positivo poi sappiamo tutti che dopo una guerra c'è la ricostruzione e c'è un'economia di ricostruzione che è molto positiva per tutti la gente potrà tornare nelle proprie case dovrà ricostruirsi le case ci saranno dei finanziamenti ci sarà un piano Marshall pertanto io spero che succeda questo se non sbaglio lei sa la data ha detto una data se non sbaglio ieri circolano le date che a cavallo del 3-4 maggio quando ci sarà la celebrazione della vittoria esatto ci sono 1 maggio comunque diciamo che la prima decada di maggio ci dovrebbe essere io sinceramente voglio mi fa piacere crederci voglio crederci e ci credo perché i russi è gente che è di parola se dice una cosa non penso che la spenda per nulla pertanto avrà ottenuto quello che quello che era nei suoi piani e se dovesse essere che naturalmente si farà nei patti che ci sarà tra le varie parti verranno levate tutte quante gli impedimenti economici nei confronti della Russia e questo sarà una delle prime opzioni che Putin dovrà mettere ecco pertanto anche noi saremo meno aggravati da un punto di vista con gli scambi economici con la Russia e potrebbe essere io cerco di essere anche positivo perché se no mi dicono che sono sempre funesto e negativo c'è forse un eccesso di ottimismo da questo punto di vista la situazione si è così tirata così incrinata che onestamente è difficile che ci possa essere un ritorno al stato po' ante nel caso della fine della guerra anche perché con tutto quello che stanno mettendo insieme l'alleanza americana e europea dubito che si possa andare a ricomprare gas o riprendere importazioni così come se nulla fosse pur essendo in gran parte necessitate perché altrimenti vorrebbe dire che l'Unione Europea fa il bel viso a cattivo tempo e dopo di che cambia tranquillamente tanto per questi anni noi abbiamo bisogno sia del petrolio che del gas sì ma allora bisognava evitare di essere troppo partigiani esatto questo l'abbiamo detto prima ed essere un po' più però guardi poi alla fine quando tra due litiganti anche tra marito e moglie poi alla fine si trova un accordo tu hai fatto questo e questo ci trova una mediazione sì spero che si riesca a trovare dopo però una volta che finita la guerra c'è la ricostruzione e lì correranno tutte quante le nazioni molto probabilmente per ricostruire sia proprio materialmente ma anche per ricostruire la società perché lì c'è anche una società distrutta non è soltanto un discorso di beni e di cose insomma e dovranno rientrare queste persone che sono uscite più di 3 milioni di profughi comunque una cosa da tutto questo bailame da tutto questo conflitto nasce che l'Europa forse ha ripreso una via una via di cambiare e di crescere cosa che invece si stava arrenando sotto l'impulso dei sovranismi dei partiti che volevano abbatterla pensiamo semplicemente a uscire dall'euro a uscire dall'Unione Europea vi dicendo forse qua si è capito che l'Unione in questi casi fa la forza certo che bisogna fare un'Unione se si vuole andare avanti che non sia più quella dell'Unione in cui c'è uno che è più uguale degli altri bisogna partire tutti su uno stesso livello e soprattutto di fare cessare quei nazionalismi quell'essere diciamo di voler dare le lezioni le pagelle agli altri perché spesso volentieri come dimostrano in queste situazioni qua oggi tocca a me e domani chissà potrebbe toccare anche a te e qua siamo tutti nella stessa barca e forse questa qua qualcuno l'ha capita io direi di chiudere questa puntata parlando soltanto una chicca quello che sta succedendo le assurdità italiane parliamo del Green Pass del Covid che adesso dal primo di aprile attenzione che è una data scivolosa però non è che si liberi più di tanto perché chi non ha il vaccino può andare può entrare nel ristorante solo all'esterno ed è qua l'assurdità perché chi ha chi non ha il vaccino viene reputato contagioso o pericoloso e perciò non può entrare all'interno di una sala ristorante non tutti però perché gli stranieri non tutti esatto era lì che volevo volevo anticiparla a dire forse i nostri telespettatori non sanno perché gli stranieri hanno il permesso di entrare pertanto gli stranieri entrano nei ristoranti dove un italiano non vaccinato non può entrare pertanto gli stranieri non sono infetti non sono pericolosi portano bacilli di altra genia serve per fare il melty non sono contagiosi ecco anche guardi chiudiamo qua perché veramente sul Green Pass è stata veramente una catastrofe da tutti i punti di vista pertanto e non l'hanno ancora chiuso sembra che lo vogliano portare avanti ancora però c'è una cosa da dire che i giudici e la magistratura si sta muovendo con continue sentenze a favore dei lavoratori che non hanno potuto lavorare addirittura su tantissime categorie hanno gli hanno dato l'obbligo di remunerarli per lo meno per la metà del salario di sussistenza cioè se uno veniva punito per una mancanza grave stava a casa prendeva lo stesso era punito ma lo stesso prendeva un salario di sussistenza cioè il salario alla metà chi non era vaccino sospeso per mancanza di vaccino non aveva neanche quel salario salario zero adesso i giudici hanno stabilito che per lo meno metà del salario spetta giustamente anche a quelli che non si sono vaccinati però sulla coscienza di gran parte dei nostri politici a iniziare da speranza che ha tolto la speranza tantissimi imprenditori partiteive grava il fatto che tantissimi hanno dovuto chiudere o lavorare a ritmo ridotto pensiamo semplicemente a quello che ha dichiarato Bianchini il presidente del mio qua in una delle scorse puntate di focus le imprese non possono programmare invitiamo i nostri telespettatori a vedere questa puntata perché Bianchini veramente si è sfogato perché sente che veramente la situazione è grave e questo è un peso che grava sulle coscienze della politica che ha protetto e garantito coloro che erano già garantiti dipendenti lavoratori del pubblico impiego pensionati e quant'altro ma tutti quei milioni di lavoratori autonomi commercianti imprenditori artigiani professionisti dicendo sono stati abbandonati a se stessi e questi sono andati a ingrossare le file della povertà chiedere il pasto alle caritas e quant'altro e questo non è degno di una politica seria ma soprattutto di un paese serio e con dei provvedimenti che sono anticostituzionali infatti adesso diverse sentenze sono passate alla corte costituzionale che darà un giudizio e vediamo cosa succederà gli sono convinto che diversi provvedimenti verranno giudicati però Bianchini però Merlina arrivano sempre in larghissimo ritardo buoi già usciti in questo caso qua ad aziende già fallite e una volta che sei fallito che sei chiuso non puoi materialmente ritornare e da questo punto di vista l'Italia uscirà grandemente impoverita ad aver perso una bella fetta della propria tessuta imprenditoriale che era il vanto la spina dorsale della nostra economia fatta e basata sulle piccole e medie imprese perché abbiamo visto che le grandi se ne vanno vengono comprate all'estero se ne fottono di quello che è il bisogno del paese prima ricordiamoci quello che diceva la buonanima di Gianni Agnelli se va bene per la Fiat va bene per il paese e abbiamo visto com'è andata bene per la Fiat che è mezza fallita se ne è andata all'estero è andata in Olanda è andata in quei paesi che tanto fanno la predica e dopo dichiarazzano peggio degli altri in casa propria cari amici vicini e lontani anche questa puntata del bianco e nero per fare il punto di quelli che sono stati fatti la settimana termina qua in attesa di vederci il sabato prossimo salutiamo il nostro ospite il nostro consulente Gianfranco Merlin per le solite capacità di sintesi di stimolo di critica di sollecito di quelle che sono le varie tematiche intanto da parte di Stefano Venera e di Gianfranco Merlin un saluto e un arrivederci alla prossima puntata grazie arrivederci a tutti grazie a tutti Grazie.